The Silent Heart Decay Under The Crown Taking The Weight Of Which Has Yet To Be Found Bella a tutti ragazzi, bentornati. Oggi siamo al quarto episodio del Road to Master Prestige. Volevo riuscire ad arrivare a due settimane di programmazione e poi riuscire a fare i doppi video al giorno, quindi due al giorno. Quindi significa caricare video per un mese. L'ambiente è la nostra arma migliore. Black Ops, eliminare tutti i versagli CDP. Capita una settimana che per tre giorni non carico video, almeno ce li ho programmati. La riuscissi a fare più soldi ma ne guadagno ben poco. Vabbè, adesso è così. Ma tutti all'inizio avranno guadagnato ben poco, eh. Agente gangster rimosso. No. Eh, guadagno più o meno 40 centesimi a settimana. No neanche, no, 40 centesimi stimati totali. Non lo so anch'io quanto guadagno. Cioè, dovrei essere a 40 centesimi. E portano alla madonna. Sì, ma tutti gli inizi guadagnano poco, eh. Allora, guadagno relativo. Non è che subito ti fai... Guadagno relativo perché spendo più soldi di corrente a tenere il computer acceso che quello che guadagno. RIPER ELIMINATO. RICOGNITORE ELIMINATO. MIA! Minaccio neutralizzata. Non moriva più quella lì? Che cacchia. Dai non muore, non questooo. Lo usiamo lì CR1. UAB UAB Cacchio C'ho questo UAB 50% di autonomia Nemico C'è un piccola nata Arriba qua UAB Inoltre Attenzione UAB di disturbo Nemico Online Inoltre 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 C'è un piccola nata E' un piccola nata E' un piccola nata Minchiaio E' non durano niente Mi distruggono Come niente Proprio Cazzo Si è bloccato il personaggio E' un piccola nata Non ci girai Arriva un Hellstorm. Continuate così, ce la faremo. Non ci credo. Attirato. questo è il danno e adesso è il slower che voglio fare uccisione la vittoria cazzo mi hai fatto ammazzare è arrivato a te? mi sa di si e questo non è andato male è buono dai questo è andato bene? 16-6 infatti sono andato poche volte dall'altra parte della vatta una volta solo forse è un acquario ma che brutto 15-6 infatti dai questo è il segno che dobbiamo continuare non lo so da faccola mi dita tre video mi esco il posto titolo adesso questa qua merita, questa qua la carico questa qua la carico anzi lo faccio faccio prima il video di prima questo video si Andre ma te stai giocando da solo a COD no non sto giocando perché stai facendo ah beh lo sei su COD a